So anche questo, però io non ho veramente elementi per dire se qualcuno ha tradito, io spero ardentemente di no, ma Ungeri ha dei lati criticabili per me come ufficiale di Marina, pur essendo stata quella grande figura che è stata, non è una figura specchiata come l'ammidaglio attuale l'Eltra, come mio padre, come l'ammidaglio Bruto Bribonesi per esempio di cui le ho parlato, però a me non ho elementi per dire che ci sia stato qualcuno che ha tradito.